A Pesaro credo che non si sia mai fatta ancora un'iniziativa di questo tipo specifica sulla giornata mondiale della Terra, che è una delle tante iniziative promosse a livello internazionale dall'ONU. Questa iniziativa ha lo scopo di avvicinare sempre di più i cittadini a quelle che sono le tematiche di tutela dell'ambiente, ma non in senso stretto. Tutto quello che è l'intervento antropico, quindi l'intervento dell'uomo sul nostro territorio, potrebbe teoricamente migliorare il modo di vivere nel territorio. Nella realtà negli ultimi 100-150 anni, quello che sta avvenendo a livello globale, ma purtroppo anche a livello di Pesaro e provincia, è esattamente il contrario. Stiamo creando un ambiente invivibile, invivibile già per noi, tanto più invivibile per le future generazioni. Questa iniziativa si svolgerà in tre giorni. La prima serata all'auditorium di Palazzo Montani Antaldi, gentilmente concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, vedrà innanzitutto la proiezione di un film, di un documentario, che si chiama Anamei, tradotto sono i Guardiani del Bosco. In particolare vertirà su quello che avviene nella foresta ammazzonica, soprattutto la deforestazione già avviata dai governi precedenti e purtroppo portata avanti in maniera massiccia e selvaggia dal governo brasiliano attuale. A questa proiezione seguirà un dibattito che verrà condotto e gestito dal giornalista Lorenzo Furlani. Il giorno successivo, il sabato, 23, si svolgerà praticamente al Parco Miralfiore, nella cornice magnifica del Parco Miralfiore. Al Parco Miralfiore, nell'area intorno alla Serra degli Agrumi, verrà installata una piccola mostra dal titolo Piante, le nostre eroine perché non possiamo farne a meno, che è a cura delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di primo grado Gaudiano, che ringraziamo con la presenza della professoressa Giulia Galli. Contemporaneamente o subito a seguire, la guida naturalistica Andrea Fazzi accompagnerà bambini, famiglie, tutti quelli che vorranno essere presenti, a due visite guidate all'interno del Parco. Il giorno successivo, l'ultimo di questi tre giorni, alle nove, partirà un'escursione nel parco, in un sentiero in particolare del Parco naturale del San Bartolo, con la guida naturalistica Laurent Sonnet. Poterci passeggiare accompagnati da una guida preziosa come Sonnet, che possa mettere in luce tutti quelli che sono i singoli aspetti, anche derivanti dalla presenza dell'uomo all'interno di questo parco naturale, crediamo che siano momenti importanti. Abbiamo inserito nella locandina anche un numero di telefono per le pronotazioni, perché è obbligatorio la pronotazione, in quanto la guida può condurre solo un certo numero di persone. Ecco, con questa iniziativa, come detto prima, vorremmo cercare di sensibilizzare sempre di più i cittadini pesaresi su quelle che sono le tematiche specifiche legate al nostro territorio. Va apposta attenzione su tutto quello che avviene, sta avvenendo o avverrà a livello locale. Ogni scelta delle nostre amministrazioni attuali, passate, presenti o future, impatta su ogni singolo cittadino. Questa è l'opera principale di Pesaro Città Sostenibile, quello di coinvolgere il più alto numero di persone in quelle che sono le scelte dell'amministrazione locale. Non è un movimento politico, non abbiamo finalità di tipo elettoralistico, eccetera. È un movimento culturale, innanzitutto, per sensibilizzare le persone a queste tematiche.